Si sono riuniti davanti al Consiglio di Stato ad Atene per protestare contro i nuovi tagli alle loro pensioni, previsti dal governo per ripagare i debiti internazionali. Circa 600 pensionati greci hanno chiesto di fermare le riduzioni, in programma per il 2019. In piazza anche numerose vedove, contro una nuova legge che prevede la pensione, solo per tre anni dopo la morte del marito, alle donne fino ai 55 anni. E' qualcosa di imprevisto, è tragico sentirsi mancare il terreno sotto i piedi, vedere i tuoi sogni distrutti, essere costretta a ricostruire la tua vita, e quello che è contro di te è il tuo governo. Dal 2010 le pensioni dei cittadini greci sono già state abbassate più di 10 volte. I manifestanti sperano che i tagli vengano giudicati incostituzionali, anche se non è atteso a breve un verdetto del Tribunale.